Bene 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 Andiamo subitino subitino subitissimo Che sono ancora incappucciato non lo so Ma sta di fatto che Dove mi ha respawnato Mi ha respawnato Ok guarda che Posso togliere il mantellino? Bravissimo Siamo un pochino più fai Attenzione alla volpe Scusato Ciao caro Ciao cari Non l'avevo messo in quest'ordine poco fa O forse si O perché tutti incappucciati? Pensiamo a Chobelto Eeeh Ma si dai Ok mi piace Com'è due a si e una? C'è dimine silenzio? Ma si è un pochino più forte E' un pochino più forte E' un pochino più forte E' un pochino più forte Sì, dove stanno i tipi? Sì, dove stanno i tipi? Sì! Tutto bene. Sì! Sì! Ma che cazzo ti è spostato, giovane? Oh, forse, dico! Ah, veniva! Sì, veniva! Ma adesso c'è questo, non gli ha fatto una sega! Ah, sono bruciato. Oh, ma che cazzo fa il nascondino? Vabbè, ho capito, va! Proccio stealth di cazzi! Facciamo volare asce come se non ci fosse un do mai! Un spam, un spam, un spam! Un spam! Un spam! Un spam! Un spam! Ma che me l'hai lasciato vivo questo? Scusi, giovane! Ma cosa trova Wallace? Ma sono dentro un'altra missione! Vabbè, quello sta attaccando! Un spam! 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 Sbam Sbam Quindi che cazzo devo fare, giovani? Posso prendermi il tesoro prima che esplode tutto? Vai Very nice Esci di qua Ma io sono dentro un'altra missione però Eh, brucia, ah brucia le case, vedi non ho attivato la missione, devo bruciare le case Quella non era una casa da bruciare? Sì Vai, vai Tutto bene Un'altra casa da bruciacchiare Perina Gli anni sono un pozzo senza fondo, non sono mai soddisfatti dei sacchi di grani che otteniamo la loro casa Spero che qualcuno li disconfigga una volta aperta, tutto bene C'ho delle freccine qua Allora, là c'è un'altra casetta Posso attingere? Casetta là Altre casette là E va, finco di nuovo di qua Ok Oh, shitty area Sui uomini Tutto bene Sai che i suoi uomini stavano in là Eh, ho capito Ci sto cercando di andare incontro, un attimo Ma che cazzo Madonna è potenziato La versione è potenziata Madonna santa Te la faccio Te la faccio in guida Guarda come le tira a giro Bravissimo Madonna legnate Spadam Spadam No ho dato una nuova lancia Stiamo già qua Perché siamo di nuovo Stiamo qua Stiamo qua Non Dio grazie per la vittoria E chiedo penance per prendere le vie Ah Chelbert Tu Dio mi fa a morte Si riuscite Siamo Siamo E non ho avuto il piacere Ivar Eivor e io Siamo creati per questo Il mio figlio Il sangue di soldi Il sangue di sangue 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 Vendere Why stop there Chター Chilbert I would know your mind On all this Are you satisfied With our victory I I believe I am I'll need word from Rodri as soon as possible What does he intend He will see the flames He will know Wespuri Has been destroyed The bleeding Puspid claims Only a dragon Can defeat him We will soon Put that to the test It is peace We want Ivar Not revenge se non puoi accettare questo, tornare a Reptono ora tu non conosci il Rodri come io, Eivor tu non conosci il quale è un sottotitolo, sottotitolo che può essere abbia parlato di uccionamento ho bisogno di un momento di calma tu hai bisogno di mead non, Ivar vero calma a walk in the woods to clear the air o... fissing fissing con me? fissing, eh? fissing for a warm puddle un po' strana sta cosa vabbè anyway ma veramente vabbè intanto vi vede qua che m'ha dato lancia superiore 8256 eh vabbè vabbè di un altro livello incrementa danni la spalla quando schifo vediamo no vabbè non c'è un paragone ciao caro fissing? where is the sporting? there's no chance the fish will kill me perché ci dobbiamo andare correndo here will be good let's fish for eel dale have relishes nettle soup cooked with eels fresh from the water i will not fish youtube All I have are my weapons. Che senso! Eh, I don't understand what shit I have to do. I have to kill an anguille, eh? How do you kill an anguille? Aspettate un attimo, va. Dobbiamo rimettere un attimo l'arco... L'arco da caccia, va. Motor! 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 Ah, forse devo evitare la... No. Miltzone! 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 ... ... ... ... ne ho presa qualcuna forse ho capito no, non ho capito per niente eh sì, però lo deve sputtare cazzo era da là ah, l'ho presa grande hai visto? che è sufficiente per ora il bishop d'ailav sarà piaciuto vabbiamo a dire a Ivar sull'apaccia dove sta Ivar? penso l'abbia visto non l'ha bisogno di e c'ha ragione c'ha ragione abbiamo chiamato un'aila per una festa il bishop deve essere piaciuto topino vieni qua amore vieni qui vai subito hop hop qui hop hop bishop greetings with the making for a delicious soup I'm grateful chelbert but my heart is heavy Ah beh, questo non gli piace mangiare, si ha capito. Tu dovresti aver visto Chalbert combattere. E' un alderman con sacco e pezzi, fioroso e raro. Mi piacerebbe essere giusto e giusto, ma prendo il complimento. Ho sentito parole ai Britannici. Io prego che King Rodri sarà ancora aperto a paura, in espressione di questo amore. Amore! Ha funzionato in nostra favore. Guarda dove ci siamo arrivati. Britannici chiamano per la merda come uccidio. La combina è finita. La parola non è ancora finita. Ci dovremmo essere attenzionati a chi attendere i nostri negoziati. Nel prossimi passi sono importanti. E dopo quello che succede in Quattford, è chiaro per me che Ivar dovrebbe restare. Restare? Dopo tutto ciò che ho fatto qui, tu mi racconti a spettare il mio cuore? Il buon bishop è vero, Ivar. Tu hai un cuore dei sottotitoli, non un pezziatore. F***a, Wulff-kissed. Io conosco Rodri e conosco il tipo di tricci che farà. E' io che ti ammogli. Se mi senti a spettare, è il mio salto di benvenuto. Hai bruciato la sua amore, Eivor. Se hai qualche bomba per lui, per tutti i conti, lo racconti. La sua amore rende difficile, e la sua angia rende difficile. Ma non è senza un sentimento honesto. Ho fatto? Io credo che vi sottotitoli un grande boh, e insieme lo racconteremo un fuoco e raccontare le storie di guerra. Questo dovrebbe aiutare. Bishop, dovremmo preparare per il arrivo di Rodri. Rallye i nostri uomini e mettere un campio proprio qui. Va bene. E il giorno, su segui la notte. E così ancora per il resto della vita. E vabbè, possiamo fare delle cose nel frattempo, ma... Ha visto. Ce l'avete una via? Una cosa più precisa. E vabbè, possiamo essere presenti per questi pari, come future Eldermen. Il fuori per la città, per la città, ha detto. E' stato un po' tempo fa, no? Non possiamo aspettare. E' dovremmo cercare la pace, ora. Lady Angharad, salve. Siamo arrivati a parlare della pace. Siamo contenti di ascoltare. Ma dove è il tuo grande king? Il resta nel castello di mio cuore. Il resta nel castello di Sì, possiamo finire questa guerra. Nessie persone hanno affrontato abbastanza. E il vostro progetto? Sì, ci saranno i nostri soldati all'estero 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 per la fronte del nostro paese. Siamo solo che ci siano dei giorni per ricordare i nostri lavori, e per rimanere il castello. In volta, ci saranno finire tutte le hostilità all'estero a questo momento. Questi termini sono generosi. Abbiamo una truce. Sì. Sì, grazie. Questo è pronto e pronto. L'unica di te e il vostro, la mia younga. Sì, saluto tutti. Sì, hai raggiunto una buona guerra. Siamo ora in un futuro. Siamo ora in un futuro di una paese. Eivor, nel momento della nostra conflittazione mi ha dato un boon di silver per aiutare il nostro camino a la pace. Come sono arrivati a la pace di un altro paese mi rindiamo il tuo silver in forma di una piccola donna. Sì, lo faccio. E' una buona città, mia signora. Grazie, spero che ti sia bene. Tu e le vostre tuttine verdi. Nel blinko di un occhio, anni di sangue e sangue sono portate a un'inizio. Tu hai passato una strada difficile, Bishop. Chailbout deve sapere le buone notizie. Desserti lui quando lo vedete? Lo troverò ora. Mantello, che ci devo fare con questa cosa? Parla con Tilbert. Tilbert! Spatam! Scusami. Come, qual'è il significato di questo? Era... un annoio. Che fatti, è ubriagato. Attenzione. Hai visto Chailbout? Non guardo i vieni e i vieni degli altri. Prendi un altro. Sto cercando Chailbout. L'ho visto? L'ultimo che ho visto, stava spaventando le arrochette. L'ho visto, stava spaventando il soldato. L'ho visto il giro prima. c'è un attimo appisolato grazie ha ho ha quando si sua la 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 l untuk tidur t E quanto riguarda le cuore di parlare? Chiamatevi che? Un po' di tempo dov'è. Seppre trovarti un modo a riuscire. Debbia essere un modo a che potercire questa macchina. Mi? Mi sono? Ok. Ah! 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 You might have burned my branch and berries off! I am looking for jailbed. So you set me a fire? Wrath of Surtr. You must know if the little blood went off hunting boar some time ago. Yes, I know. But where was he hunting? He went south. That's all I know. Probably followed the stream here, south to the forest. Ok. You have to go on. Thank you. Allora, Gilbert ha seguito il fiume a sud di Westboro. Dov'è il fiume a sud? Quindi davanti a me c'è un fiume. C'è un fiume qua? Ma non sembra. Ah, eccolo qua. Questo è un fiume? Vabbè, seguiamo questo fiume, va? Stiamo bagnando un pochino. Attenzione, attenzione di situazione. Vabbè, di là. Vabbè, a posto. Stavo totalmente fuori strada, ma va bene uguale, eh. Vabbè, che non ha fatto una bella fine. Vabbè, che non ha fatto una bella fine. Dentro. Proviamo dentro la caverna. Eh no, direi proprio di no. Ciopela. Bravissimo, Ever. Bravissimo. Non ci stavo. Un cagnolino ucciso male. Scusi, aspetta. Mi sono perso un attimo la stradina. Eccola qua. Non c'era niente. Un po' di argentino. Va fa. Sempre match comodo. Eh, ma perso una valangata di sangue. Chi stava qua? Ha fatto il giro. Eccola qua. Eccola qua. Cosa? 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 No, non ho fatto il giro. Allora, c'è una stradina di qua. Però c'è anche una stradina di là. Questa forse è una scorciatoia però. Aspetta, aspetta, aspetta. No, qua c'è il tipo. Allora vado all'altra parte. Ho fatto una brutta fine, hai visto? Eh, dov'era l'altra strada? Di qua. Eh, magari qua c'è... Della roba da recuperare e basta. Un sacco di roba da recuperare. Molto bene. Molto, molto bene. Eccoci qua. Ciao caro. Ma ancora vivo? No. C'è. Molto bene. Molto bene. Direi che è finita la pace. Ehm... Mo' vatti a ricordare dove cazzo stavo però. E qua? In caso mi puoi donare la tua spada? Se, 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 se dovessi morire, giovane. Com'è? Eh no, di qua non si... Non si puede. Bravissimo. Sono ricresciute le scatoline perché forse mi servono per fare delle cose. Ah no, guarda. C'è il passaggio di qua. Non l'aveva visto. Ehm... Andiamo di qua. Va bene. Ehm... Eh... 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 Hush... Hush... Till that... sarà pronto tra i miei amici chissà se questo risvolto è frutto delle decisioni prese in precedenza doveva proprio finire così tutto interessante saperlo chiamiamo un dottore giovane chiami un dottore giovane mi ne ha fatto un cazzo a nessuno mi sembrano tutti molto scossi con la mano di Thor è questo il dottore? che cosa c'è da fare con un ascio? è fuori un ascio! il suo guardia lo prenderà come è un ascio o non go dear god boy and I will sing for you in Valhalla this was no wolf tell me what happened sto ripetendo di questo significa guerra è colpa nostra questo significa guerra che cosa? è fuori è fuori con questo un dottore britannico questo dagger? Rodri! Ma perché? Hai matto il suo figlio. Hai pensato che sarebbe lasciare la sua scuola così facilmente? Hai detto che era un trickster. Peace non era mai il suo obiettivo. Il prende sangue per sangue. Bishop Deolav! Qui? Qual è che appello fruato? Non proteggerlo. Io prenderò questo dagger nel sangue. Tu devi andare presto. Attacca prima Rodri può revelare la sua scuola. Non c'è questa volta, Wolfkist. Hai spaventato questo uomo, Leofrith. Non ci saranno la Rodri. Spero. Lord above, cosa succede? Chalbert! Murdi. May il Lorde che frei te da sin, save te e raise te up. Vabbè, andiamo ora. Spacchiamogli il culo. Andiamo ora. Fine. E ricordate, lasciate Rodri per me. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Dov'è? 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 Segui, parla. 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 Punti abilità, punti abilità, punti abilità. Allora. Volevo andare da questa parte. Eh, però è praticamente impossibile fare tutto questo giro. che però sono tutte cose che mi interessano. Vabbè, facciamo sto giro, va. Cazzo, rola puttana di eva, dammi sto cavallo. Scusate. Scusate. Ah, tutta la cavalleria? Siamo in quattro? Chi dobbiamo fare spaventare? Scusate. In Quartford, tu mi hai detto che Rotary ti ha dato il scar al tuo cuore, è una storia di raccontare? Se non è raccontare, è di ricordare. Anche a volte andavo fuori dall'Isla West, hanno avuto i combattatori lì. Mi ha fatto un po' di scuola, mi ha messo in un mood di sorriso. Mi ha chiesto il sangue e il silvio, nulla. Quindi, io e i miei dranghier, vengono verso la costa di Camry. Ovviamente, vediamo la storia del suo dito. Guarda, 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 è pronto. Guarda, 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 guarda. Abbiamo le numeri, ma i britannici sono le miei. E' una storia di marcellà. Il sangue che fai la nostra macchina e che rinca la facoltà nei blocani. Uno per uno. Rotary ha fredo le nostre dei fai. E' mi arriva, muace la pelle sucire e mi da questo cuore. Lasciate questa terra e dite le persone una verità verità, diceva. Dicevano che il Reino Brodry ti ha dato quella scelta. Cosa, dicovole. Brodry riuscita. Grazie a tutti. Una storia, Eivor. Son di Ragnar, giocatore dei rei, congredore dell'Englanda e dell'Isola Bacchia. Che vivono una saga di 10 anni. E' quello che ho. E' uscito oggi Topino. Ora magari lo porto fuori io prima di andare. E' uscito un campionato e mettere plani per un attacco di sorpresa. che devo fare? 85 metri parla con Eivor. Che cazzo sta? Eh, ora vogliono parlare tutti. Io posso parlare con una persona sola. Dica. A posto. Che nome di Loki hai fatto? Ho chiamato il Dragone per aiutare a scelta Rodry. Ora cosa ti dice, Wolfkist? Sei pronta per la guerra? Pronta per un uomo, Eivor. E' uscito. E' un buon giorno per morire. La grata sembra essere bene difesa. I miei uomini stanno tagliando una cartella con caldroni di olio. E' uscito attraverso questa grata. Bene. Molto buono e buono. Guarda che so bravi, mamma mia. Prendono le asci al volo, attenzione che... Sbagliate la mia e ti tagliate la mano. Ma? Ma? Sbagliate la mie! Ragnarillo. Sbagliate che c'è. Ma? Guarda, show ero, io sono. Io è qui. Il brado di raggiungo. 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 Sì, figlio, figlio! Tu hai spettato il sangue sulle nostre pezze, con la cucchia di giovani Chalberti! Parlassi quale nascita che ti piaci, Dain! Se ti chiedi la guerra, le nostre difenze sono sicure. Guardi su la mia face, King of Grow Food, e trovi il dragone che ti avrà! Vedo un vecchio figlio, giocando a serpente. Mi ha chiesto di farlo. Eh, infatti, tagliamo un po'. Pane fritto con olio di ciccione... Madonna, sembra bello grosso. Scorta il carro con olio fino alla porta. Prendete il carro, ragazzi! Si chiuderemo in fronte delle porte! Ma che cazzo mica l'avevo visto che questi erano dei miei amici? Cominciamo a fare un bordello. Uh! Più! Scusate! Scusate! Giù! Scusate! Eh! Scusate! Madonna, 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 madonna Da panico Oh, ma che cazzo Espezione Spariamo Spariamo come se non ci fosse un cazzo di domani Che cazzo è preso Oh, ma che cazzo stai mirando Testa di merda Pam, 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 pam Chi devo dare un fuoco Come io do un fuoco, un secondo Sto combattendo un attimo Oh, ma che cazzo ricicciano Attenzione che ricicciano Aspetta un attimo Non l'ho, non l'ho, sono ricicchiato Vabbè, ho capito, va, mi sto buttando Avanti, va Non devo far così Va vaffanculo, va Avanti Vabbè, va Storam il cazzo, non dà più Avanzi Eeeh, si batta Oh, aspetta, scusi, 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 scusi Vado, vado di là, eh Vado un attimo di là Faccio un attimo così Aia Molto bene Che devo fare, scusatemi Puoi fare spodere il giro del rio per sfondare la porta Ah, guarda dove stanno Aspetta, aspetta, aspetta Arrivo, arrivo, giovanotti, copritemi, copritemi Devo prendere ancora, immagino Ma che cazzo che mi spara la frecciata Ancora? Uff Chi è che mi sta sparando? Che m... State un attimo facendo un nervosire Guarda sto stronto qua con sta macchinetta Taffacco Spacchiamo pure questa Con piscinelli per abbassare il punto del lavatoio E dove sta? Poi che siete, amici, amici Scusi, scusi Posso ucciderla eventualmente? Merda Cominciamo a sversagliare Cominciamo a sversagliare Continuiamo a sversagliare Epa Aspetta, scusi Calpetta Bravissimo Bravissimo Così, faccio un attimo un po' di piazza pulita Aspettate Va, 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 va Oh Ok Va Molto bene Olè Andiamo avanti Andiamo avanti Madonna Ma quelli che lanciavano queste frecce Devevo morire subito Avanti Dove cazzo miri? Dove cazzo miri? Giovane Madonna Spedino style Che cazzo lo lanciano le lanciate Problema di mira Che lancia queste frecciate Ancora Più che arrivano le frecciate Beh, mica devo fare con questo cosa Posso usarlo Scusate Arrivo Faccio un attimo una cosa Arrivo Ammazza Come ci arrivo io di là Oh Madonna Ma era questa la cosa da fare? Non lo so Di fatto che è successo Un maicello Ma che ieri lì Non erano visibili Erano visibili in effetti Mannaggia La puttana dieva Che cretino che sono Oh Avanti Possiamo fare No Scusate Eh Ora faccio una cosa da panico Bam 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 Scusate Io nel frattempo la impalo Bam bam Olè Siamo fa' una cosa Mega power Aspetta No Aspetta 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 No Aspetta 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 Avanti Olè Oh Dove fa' Forza apertura Dai E' quello sta Ammagnata Bello Bello Tranquillo Madonna 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 Ma perché ha mani nude Siete armati Sto'è Sto'è Sta' Spaccato Sto'è 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 Ma Sto'è 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 Lo Sto'è Sto'è Soprattutto molto bello questo sarà bene ho qualcosa di specifico un posto e un metodo vabbè questo lo faccio dopo faccio dopo così poi riprendo da qua molto bene molto bene bambini bambini